Mi dispiace dirlo, ma non ci saranno più montaggi mirabolanti su FIFA, su qualsiasi, dopo che stavo preparando, avevo in mente, avevo preparato una top 10 della Madonna, ma non ci sarà tutto questo, non ho più un editor per editare. E quindi ragazzi, è finita la magia, è finita, ci voglio credere, non ce la faccio, stamattina apri il pc, mi metto i dita, finisco il video, vado per esportarlo, finito ho tutto, devi pagare, no no no, non va bene, non va bene. E allora ragazzi, dovremmo farci abitudine, magari farò una live, e niente, è finito tutto, montaggi dei gol, che vi erano piaciuti tanto, non ci saranno più, non ci saranno più, lasciando un like, ma non ci sarà più niente da mettere like, ci vediamo in live, è bene. Grazie a tutti.